Siamo nella fase della nuova gara, del nuovo appalto per la caratterizzazione delle sabbie, una procedura che a seguito della sentenza del Consiglio di Stato che ha rovesciato l'esito del Tar, siamo dovuti ripartire con un nuovo progetto perché adesso la ditta giudicatrice è una ditta diversa che prima aveva fatto un progetto diverso rispetto all'altra e quindi siamo stati costretti a rifare il bando per la caratterizzazione delle sabbie, ripartire da questo perché sono scaduti tre anni e le analisi delle sabbie sono valide per tre anni. Alla fine, appena si concluderà questa prima fase, si tornerà in tutte le sedi per ripartire con il nuovo progetto e quindi penso di concludere tutto l'iter nei tempi previsti che abbiamo a disposizione. Il dragaggio è fondamentale perché approfondire i fondali significherà fare entrare navi di grossi quantitativi e quindi porterà sviluppo sicuramente non solo al porto di Ortone, nel territorio vicino, ma a tutta la regione Abruzzo.